buonasera a tutti grazie per essere qui avendo fatto anche un tratto di strada non indifferente ringrazio il professor galimberti per il grande onore che dà alla nostra cantina con la sua presenza e dico solo due parole sul sul titolo di quella della conferenza di questa serata calagazzos bello e buono questo è il titolo che il professor galimberti ha pensato per questa conferenza su così sulla mia indicazione di parlare di bontà e bellezza bontà e bellezza sono i principi che guidano la nostra cantina ogni nostra azione è guidata da queste due semplici parole la bontà ovviamente è quella del prodotto è quella del vino ma è una bontà che non va creata la bontà è già nell'uva dietro di voi sopra di voi vedete le vigne venite in settembre staccate un grappolo lo assaggiate è buono è dolcezza asprezza croccantezza c'è tutto già quindi portare la bontà nel vino significa accompagnare questa bontà già presente nel prodotto della terra al prodotto che segue che è un prodotto molto più complesso e cioè il vino non è solo un alimento come il grappolo d'uva ma è un alimento che in ebria per esempio quindi ha a che fare con il nostro con il nostro umore con il nostro spirito e quindi ci sono tutta una serie di di cose aggiuntive che rendono questo prodotto da sempre qualcosa di speciale bellezza la bellezza è quella del paesaggio anche qui non c'è da fare molto c'è da conservare un esempio molto semplice è il posto dove voi siete il posto dove siete non ci sarebbe se noi non fossimo stati guidati da questo principio e se noi avessimo accettato un progetto che era già pronto per fare una cantina qui esattamente dove voi state seduti no allora noi l'abbiamo bocciato e abbiamo pensato con molto più tempo molto più investimento di farlo sotto terra dove il vino ecco quindi capite come due principi bontà e bellezza se sono pensati ogni giorno hanno a che fare con con ciò che si vuole offrire quindi ho chiesto al professor garimberti di chi è stato mio professore a venezia negli anni ottanta con cui ho fatto tre esami ecco questi sono i libri di parlare di e lui ha pensato questo bellissimo titolo cala gazzos bello e buono ho proposto io un sottotitolo la radice greca della gioia che lui inizialmente ha accettato e poi ha un po criticato magari dirà perché e perché mi sembrava che questo spiegasse un po il senso cioè se noi offriamo bontà e bellezza possiamo offrire un po di felicità ecco che allora sto già facendo un sinonimo felicità uguale gioia gioia ho voluto dirlo perché ricorda il mio maestro professor severino con cui 23 anni prima di me anche il professor garimberti si è laureato e quindi mi farebbe piacere se lui dicesse due parole anche sul professor severino se cercate su youtube trovate un suo bellissimo discorso di necrologio due anni fa il professor severino è morto di sei minuti in cui dice delle meravigliose cose sul su che cos'è un maestro e grazie a tutti per la parte scusate volevo un ringraziamento a tutti gli organizzatori mia moglie per prima e tutta la mia famiglia che ha collaborato a questo evento e il gruppo il clan castellarotto primo della geshi scout che ha gestito la logistica stradale e tutti quelli che hanno collaborato e voi presenti grazie buona serata buona conferenza buona sera allora calosca e agatoso abbiamo cercato di trovare una combinazione tra queste cose no calosca e agatoso è una parola greca che vuol dire bello e buono lui pensa alla bontà del vino e non pensa male perché nel simposio nessuno lo sa ma quando voi dite in vino veritas state traducendo una frase di platone perché platone nel simposio dice oi no sei sia lezzeia nel vino c'è la verità è chiaro quando uno si ubriaca dice la verità nel senso che dimette l'ordine razionale e comincia a parlare con l'anima no sì le due parole calosca e agatoso bello e buono stanno insieme abbastanza bene sempre platone dice che il bello la bellezza è la misura del bene ma queste due cose dovrebbero essere ordinate secondo un ordine ma vediamo un po di partire dalla bellezza per riuscire a capire questa correlazione che non sempre risulta evidente di per sé della bellezza non bisognerebbe parlare perché parlare della bellezza significa ridurla a una cosa intorno a cui si esprime un'idea e una parola ma la bellezza non ha niente a che fare con le idee con le parole perché la bellezza è qualcosa che ci colpisce nei confronti della bellezza noi siamo passivi mentre quando parliamo e quando pensiamo siamo attivi cioè siamo i soggetti delle idee delle parole che diciamo parlare della bellezza è un modo di ucciderla è un modo di non capirla è un modo di non rendersi conto che nella bellezza tu sei dicono i tedeschi è staunt stupito anche la parola stupido viene da stupito sei paralizzato la bellezza ti colpisce non è qualcosa che puoi trattare che puoi discutere però nonostante questo visto che dobbiamo parlarne proviamo a parlarne la bellezza è all'origine della filosofia aristotele dice che la filosofia nasce dal dolore e dalla meraviglia e se la filosofia come dice aristotele è la ricerca delle cause è chiaro che quando uno soffre va a cercare la causa della sua sofferenza e poi nasce dalla meraviglia la meraviglia è quella che ti stupisce qui in cominciamo a sentire come funziona la bellezza qualcosa che ti rende in uno stato di contemplazione in uno stato un po' straniato rispetto al nostro io ovvero la nostra parte razionale Tommaso d'Aquino invece definisce la bellezza in un modo molto semplice che penso sia condiviso da tutti dice che pulcrum est quod visum placet bello è ciò che quando lo guardi ti piace semplice no sarà così questa definizione di Tommaso viene ripresa anche da Kant che però ci aggiunge due considerazioni che sono estremamente importanti lui dice che la bellezza è ciò che piace senza possesso e senza concetto questo cosa vuol dire che non devi fare un ragionamento per stabilire quello che ti piace e ancora una volta vediamo che la dimensione concettuale la dimensione razionale la dimensione del pensiero la dimensione della parola la tacciono senza concetto e senza possesso senza possesso sta a dire che una cosa è bella a prescindere dal fatto che sia tua allora tutti per esempio tutti i collezionisti sono persone che non considerano la bellezza dal punto di vista della sua natura ma la considerano dal punto di vista del il suo valore soprattutto se è un valore mercantile che è una forma di dimenticanza della bellezza e una valorizzazione del mercato siccome il mercato è una delle potenti macchine che tengono in piedi la nostra società l'altra macchina è la tecnica voi capite che se la nostra cultura è regolata dalla tecnica e dal mercato quanto questa cultura sia lontana dalla bellezza ma la definizione più forte della bellezza forse l'ha data thomas man quando dice che la bellezza dursteigt trafigge la bellezza trafigge e allora la bellezza ha una parentela con l'amore anche l'amore trafigge e sia la bellezza sia l'amore sono al di fuori della razionalità voi non vi innamorate perché ragionate quando vi innamorate se ancora vi è capitato ve lo ricordate se non vi è capitato peccato ma in quella circostanza la ragione non c'è non funziona potete dire a un ragazzo guarda che quella ragazza per te non va bene e potete sentire rispondere sì lo so ecco qui la parte razionale ma non posso farci niente ecco cos'è l'amore al pari della bellezza non ha niente a che fare con la razionalità se mentre fate l'amore avete un io molto forte al punto da controllare l'evento non state facendo l'amore perché l'amore prevede un colasso del proprio io e l'emergere di quella componente che caratterizza l'amore che a sentire platone è la follia che lui definisce la più eccelsa la più divina bene amore e bellezza stanno insieme stanno insieme caratterizzate proprio entrambe dalla esclusione della razionalità sia nella bellezza sia l'amore non c'è razionalità quindi non c'è alcuna utilità sia la bellezza sia l'amore sono inutili e purtroppo nella nostra cultura ho detto ripeto fatta di mercato e di tecnica tutto ciò che è inutile viene viene disprezzato viene non viene considerato perché si considera solo ciò che è utile utile a utile a utile a a a è utile a b b è utile a c allora si si capisce qualcosa ma se questa catena delle utilità non si ferma allora abbiamo quello che è che chiama la cattiva infinità perché se una cosa è utile a un'altra quell'altra utile un'altra ancora e non si arriva a un punto inutile anche tutta la catena dell'utilità non rivela più alcuna utilità e quindi bisogna smobilitare i nostri pensieri organizzati secondo il modello razionale del utile a utile a utile a se vogliamo entrare a capire qualcosa di che cos'è la bellezza e di che cos'è l'amore entrambe appartengono a quell'altra parte di noi stessi che è la follia la follia non è una prerogativa dei matti a follia ci abita è sufficiente che quando bevete il vino ne bevete un po' troppo e il giorno dopo vi dicono ieri sera non eri più tu cioè la tua parte egoica il tuo io che è la parte razionale la nostra parte razionale ieri sera ha ceduto le armi la follia è la caratteristica dell'amore ma però che vi rendiate conto che ci abita profondamente questo scenario è sufficiente che vi addormentiate il vostro io dorme la vostra coscienza non è attiva la razionalità è assente e incominciano i sogni che prima di essere un bocconcino d'oro per gli psicanalisti sono innanzitutto il teatro della pazzia perché nel sogno non funzionano principi di non contraddizione perché io nel sogno posso essere il rappresentante posso essere lo spettatore del sogno e contemporaneamente l'attore del sogno le due cose dal punto di vista razionale non stanno insieme oppure nel sogno il protagonista è una donna io sono un uomo però so che quella donna sono io oppure nel sogno il protagonista è un bambino e so che quel bambino sono io non funziona principi di non contraddizione che il principio della ragione non funziona principio di causalità perché nel sogno l'effetto tante volte produce la causa non funzionano le categorie dello spazio e del tempo un sogno incomincia a New York e finisce all'impero romano è la pazzia la follia che ci abita e con cui noi non facciamo mai i conti perché pensiamo di essere razionali è richiesto che noi si sia razionali è la follia che la che ci abita che cosa ne facciamo bene la follia che ci abita è la condizione per percepire la bellezza e per intraprendere quelle che platone chiama atta erotica le cose d'amore e a un certo punto nella repubblica dice che la no nel filepo dice nel filepo dice che la follia dal dio proveniente è sai più bella dell'umana ragione ora questa frase detta da chiunque sarebbe una frase così interessante curiosa bella ma detta da platone molto importante perché platone è quello che ha fondato la ragione noi italiani noi occidentali parliamo e ragioniamo come platone ci ha insegnato a parlare a ragionare soggetto predicato complemento e prima come si parlava o mero non parla con soggetto predicato complemento parla con un linguaggio analogico ovvero attraverso paragoli non dice aiace è forte soggetto predicato predicato complemento ma dice come il leone così aiace prima si parlava per analogie con platone si comincia a parlare per grammatica e logica e quando noi parliamo parliamo esattamente come platone ci ha insegnato a parlare come platone ci ha insegnato a pensare anche se non lo sappiamo siamo tutti platonici e però nonostante questa inconsapevolezza dobbiamo tener conto dell'altra parte di noi stessi perché platone dice la follia dal dio proveniente sei più bella dell'umana ragione nella repubblica dice che il per balle intama sema tolka cioè la follia oltrepassa e al di là va oltre tamas sema tolka le cose matematiche la logica matematica chi non ha un rapporto con la propria follia fa una vita veramente disgraziata d'altra parte con la follia bisogna avere una cerco la propria mente molto più grande di quanto non sia la capacità della ragione di contenerla la ragione non è la verità la ragione è un sistema di regole che serve per intenderci e per prevedere i comportamenti la base della ragione dicevo prima il principio di non contraddizione cosa dice che una cosa è se stessa e non altro non altro il microfono nel microfono e non altro è vero non è vero perché io questo microfono potrei sganciarlo dal suo fino scaraventarlo in platea diventa un'arma impropria quindi tutte le cose sono polivalenti sono ambivalenti hanno una pluralità di significati non sono costretti in un unico significato questo lo sanno i bambini bambino prende in mano un pennarello e si mette a disegnare allora il pennarello è il pennarello poi lo mette in bocca gli cambia significato e lo fa diventare un biberon poi lo caccia nell'occhio il suo fratello lo fa diventare un'arma impropria gli cambia tutti i significati quindi tutte le cose sono disponibili per tutti i significati è chiaro che se noi dovessimo regolarci sulla verità delle cose non riusciremo a intenderci perché io ti dico dammi un microfono e tu mi porti una bottiglia d'acqua perché tutte le parole sono ambivalenti oppure ci troveremo nella condizione per cui i bambini gradatamente arrivano all'età della ragione e attraverso i no delle mamme imparano il principio di non contraddizione quando cambiano il significato al pennarello perché se lo mettono in bocca e lo traducono in un biberon la mamma dice no quando lo mettono nell'occhio suo fratello dice no questi no sono quelli che addestrano i bambini a passare dalla verità alla razionalità quindi non confondiamo la ragione con la verità la verità la verità la verità ce l'ha nei bambini ma nella verità non si può vivere intendiamo per verità la polivalenza dei significati quando siamo a tavola tutti siamo forniti di forchetta coltello e cucchiaio e quando uno prende in mano un coltello nessuno si agita perché perché voi avete fede che il vostro commensale usi il coltello unicamente per tagliare la bistecca e non per altro ecco il principio di non contraddizione ma può benissimo prendere quel coltello e ficcarlo nella pancia gli ha cambiato significato ma il coltello è disponibile anche per questo questo per dire che la ragione è un sistema di regole non è la verità grazie a queste regole noi possiamo intenderci e soprattutto prevedere i comportamenti senza queste regole noi non riusciremo a fare comunità il problema di non confondere la ragione con la verità bene la parola kalos kalos kaya gazos compare addirittura nel primo libro della bibbia quando dio crea il mondo ogni giorno sapete che per creare il mondo ci ha messo sette giorni no anzi sei il settimo si è riposato e nel creare alla sera alla fine della sua creazione dice genesi il primo libro della bibbia e videlo in che ciò era tob cosa vuol dire tob tob è una parola aramaica e io mi sono fatto spiegare da cardinale avasi che conosce l'aramaico nelle sue sette stratificazioni che cosa vuol dire tob mi ha detto che è stato tradotto in greco con tre parole diverse con la parola kalos che vuol dire bello con la parola kalos che vuol dire buono con la parola krestos che vuol dire ci sto bene allora dio crea il mondo dice tob e vide che ciò che aveva creato era tob vuol dire che era bello che era buono e che ci si sta bene ma questa connessione di belle di buono crea una connessione che di solito non si viene non si viene a fare perché si colloca la bellezza nell'estetica e la bontà nell'etica ma le due cose sono connesse sono connesse e kala kalakassos dice proprio questa parola la connessione tra estetica ed etica e lo abbiamo anche nel suo rovescio il contatto di bello è brutto la bruttezza il contatto di buono è bruttura la bruttura invece è una cosa una cosa che rientra nell'etica non nell'estetica allora bello e buono hanno come loro antagonista bruttezza e bruttura bruttura ha una valenza etica questo per dire che etica ed estetica sono tra di loro connessi noi le abbiamo separate ma in realtà il loro legame è veramente profondo sono due figure incatenate tra di loro nella tradizione giudaica non c'è tanta bellezza perché la tradizione giudaica pre cristiana è una cultura che potremmo dire dell'ascolto l'ascolto della parola di dio non è una parola una cultura della visione dove si collocherebbe la bellezza la figura dell'ascolto ascoltare la parola di dio e questo ascolto può essere caratterizzato dalla accoglienza della parola di dio con un cuore di carne o dal rifiuto della parola di dio con un cuore di pietra il mondo giudaico non ha bisogno di indagare sulla natura di considerarla di studiarla di vedere come è combinata quali sono le leggi che la governano perché la verità gliela da la parola di dio e la parola di dio è quello che stabilisce l'ubbidienza il cuore di carne che la accoglie il cuore di pietra che la rifiuta cosa succede a questo punto a un certo punto gli ebrei si vede che avevano un bisogno estetico hanno raccolto tutto l'oro che disponevano l'oro degli orecchini l'oro degli annelli e hanno costruito un vitello d'oro e si sono messi ad adorare un vitello d'oro unico bagliore di estetica Mosè scende dal Montesinei vede questo vitello d'oro prende le raccontate la tradizione che prende le lapide dove erano scolpiti i comandamenti le scaraventa sul vitello d'oro e lo distrugge non avrai altro dio all'infuori di me di dio non ti fai immagine alcuna l'estetica esce fuori di nuovo dalla cultura giudaica non ti farai immagine alcuna non solo ma non nominare il nome di dio in vano ma non nominare il nome di dio in vano che appartiene anche ai nostri comandamenti non è un comandamento perché noi diciamo Yahweh in un'altra lettura aramaica Elohim in realtà Yahweh è una parola che dice Dio è una parola composta da cinque consonanti che non riesce a pronunciare per cui non nominare il nome di dio in vano ti si sta dicendo non ce la fai a pronunciarlo e quindi Dio resta Dio in un'assoluta trascendenza di cui non ti fai immagini e di cui non riesci a pronunciare la parola è assolutamente al di là ancora oggi se voi entrate in una sinagoga non trovate nessuna immagine di dio entrate in una sinagoga e vedete delle scritte della Bibbia sulla cornicione della cupola della sinagoga ma non trovate nessuna immagine l'estetica è completamente esclusa e però l'uomo parla l'uomo ha la parola e c'è anche una bellezza della parola non ci sarebbero poesie non ci sarebbero romanzi non ci sarebbe la possibilità neanche di dire parole d'amore se non ci fosse la parola Aristotele parla dell'uomo come di un animale che ha il linguaggio Zon, Logon, Econ e qui vediamo subito di intenderci Zon, Logon, Econ che cosa vuol dire propriamente? vuol dire che la parola è uno strumento per esprimere i pensieri? no signori tu puoi pensare limitatamente alle parole che hai in bocca se hai poche parole pensi poco provate a formulare un pensiero a cui non corrisponde la parola quindi la parola non è uno strumento nelle mani del pensiero ma è il pensiero che dipende dalle quantità di parole che possiedi il problema è che oggi di parole se ne possiedono poche il fallimento generalizzato e continuato dalla nostra scuola ha fatto sì che i nostri studenti dispongano di pochissime parole l'altro ieri ho notato fuori un'informazione relativa al concorso dei giudici di cui il 40% di quelli che si sono candidati a fare il giudice non erano in grado di scrivere una pagina in italiano gli mancavano le parole nelle prove invalsi di due anni fa i nostri studenti della terza media due su tre due su tre non sono in grado di coordinare una proposizione principale con una secondaria noi italiani lo dice l'Ocse siamo all'ultimo posto in Europa per la comprensione di un testo scritto e l'anno scorso ha formulato anche una statistica secondo cui il 70% degli italiani sa leggere ma non capisce cosa legge il 70% voi pensate che la nostra società avrà un seguito un futuro a questi livelli di ignoranza? a partire da questi livelli di ignoranza ha un grosso successo il populismo perché il populismo consiste in un rapporto diretto tra chi ti dà uno slogan e tu che ti devi muovere in una società complessa e hai un vocabolario ridotto non riesci ad articolarti in un contesto complicato chi ti dà un messaggio che ti semplifica il mondo tu gli vai addietro perché ti semplifica la vita ma non è mica detto che quel messaggio sia quello giusto e noi non pensiamo a questo si aggiunge anche il problema enorme del computer che ha una logica binaria il computer procede con la logica uno zero che tradotto significa sì e no al massimo non so abbiamo affidato la nostra identità ai follower e ai like per cui sono il numero dei follower e il numero dei like che ci danno l'identità quindi non ne abbiamo più alcuna se non affidata agli altri parlavo l'altro giorno con un medico un primario di cardiologia gli chiedeva come sono i medici di oggi e dice sanno ragionare solamente in termini binari sì e no è così non è così solo che dice le malattie cardiache sono molto più complesse di un sì e di un no mi diceva lui questo è l'effetto dell'informatica che cambia il nostro modo di pensare e il nostro modo di parlare il successo dei referendum è che tu devi dire sì e no no? nient'altro i sondaggi queste cose qui che si fanno in continuazione sono tutta una logica binaria con una miseria linguistica spaventosa abbiamo perso la bellezza della parola passiamo dalla tradizione giudaica a quella greca perché le tradizioni dell'occidente le fonti dell'occidente e le radici dell'occidente sono due la radice giudaica e la radice greca beh i greci invece non hanno una cultura dell'udito non stanno a sentire la parola di Dio per la semplice ragione che per loro lo sfondo a cui fare riferimento è la natura che nessun uomo nessun Dio fece sempre è stata e sempre è e sarà e ospita uomini e dei quindi anche gli dei sono inclusi nella natura non sono i creatori della natura e l'uomo non è al vertice del creato perché al par di tutti i viventi nasce cresce genera e muore tant'è che i greci pur avendo due parole per dire uomo la parola anere la parola antropos non le usano mai quasi mai e usano la parola sanetos che vuol dire sanatos è la morte sanetos mortale questo fa della cultura greca una cultura grandiosa perché se l'uomo è mortale vuol dire che ha un limite e l'etica che ne nasce è l'etica del limite non oltrepassare il tuo limite agisce secondo misura bene i greci non avendo la parola di Dio non hanno la verità perché qualcuno gliel'ha raccontata ma per per avere per trovare la verità la devono cercare e non è un caso che tutte le scienze sono le scienze che noi conosciamo sono nate tutte quante in Grecia nel giro di 150 anni la filosofia la matematica l'architettura la medicina la fisica la matematica tutte queste discipline nate in Grecia perché il loro compito era quello di studiare la natura in modo tale da poter capire come la si può coltivare come la si può usare senza abusarne ecco e costruire una città secondo natura e la conduzione della vita secondo natura per loro la natura era questo non era una creatura da Dio da dominare ma era lo sfondo a cui ci si deve adeguare Platone dice si possono abbassare un pochino queste luci un pochino mica tanto giusto per non finire acceccato io preferisco invece che le luci siano sulla gente se no mi sembra di essere da solo in un contesto autistico e non ci sono ancora arrivato a questa patologia c'è sempre la possibilità di arrivarci però va bene così ok allora si diceva di questa cultura greca che tiene la natura come sfondo immutabile e non mette l'uomo al centro della natura questa è la grande differenza tra la cultura greca e la cultura giudaica perché nella Bibbia quando Dio allontana l'uomo da Adamo dal paradiso terrestre gli dici dominerai sugli animali della terra sui pesci delle acque e sui volatili del cielo dominerai e questa categoria del dominio è stata la molla che ha determinato la cultura dell'Occidente l'Occidente è fondamentalmente giudaico cristiano il cristianesimo non è una religione non è solo una religione è un inconscio collettivo siamo tutti cristiani anche gli atei anche se non sanno di essere cristiani anche gli agnostici perché la cultura giudaio cristiana ha trasformato l'ordine del tempo mentre i greci concepivano il tempo come un ciclo che era il ciclo della natura quindi inverno primavera estate autunno poi il ciclo ricomincia chi ha visto tanti cicli che sono le persone anziane possono insegnare i giovani quali sono le tradizioni quali sono le modalità di coltivare la terra quando Esiodo scrive le opere i giorni dice appunto come si deve seminare come si deve ventemmiare come si deve coltivare la terra come la si deve far riposare come la si deve riprendere quali culture sono possibili con quale temperatura in che contesti incidenza del vento tutte queste cose descrive Esiodo perché la natura è lo sfondo e solo qui tu puoi vivere non da un'altra parte quindi devi imparare le regole e quando si parla di tradizione la tradizione non sono altro che l'elenco che Esiodo fa nel quinto secolo avanti Cristo le regole che si devono assumere per poter continuare nella vita e lì si fa l'elenco delle azioni riuscite e l'elenco delle azioni fallite perché non si può ricominciare in ogni generazione da capo e allora questo elenco delle azioni riuscite costituiscono le tradizioni la tradizione non è altro che l'elenco delle azioni riuscite la cultura giudaico-cristiana invece ha trasformato il tempo non più in un ciclo ma in una traiettoria dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato che cosa era stato annunciato la salvezza quando è questa salvezza alla fine dei tempi per cui il futuro è assolutamente positivo e divide il tempo in tre parti qualitativamente diverse la tradizione giudaico-cristiana il passato è male peccato originale il presente è redenzione il futuro è salvezza il futuro assolutamente positivo la scienza che siamo soliti contrapporre alla religione è a sua volta profondamente cristiana anche la scienza pensa in modo cristiano il passato ignoranza negativo presenta ricerca futuro e progresso cristianesimo laicizzato anche Marx è un grande cristiano pensa che il passato sia in giustizia sociale il presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo il futuro giustizia sulla terra il futuro è sempre positivo nella cultura occidentale come effetto di questa concezione del tempo anche Freud che scrive un libro contro la religione intitolato l'avvenire di un'illusione pensa che il passato sia il tempo in cui si forma la nevrosi il trauma l'infanzia il presente terapia il futuro guarigione tutto è cristiano in occidente per cui quando gli ati discutono con i credenti Dio esiste Dio non esiste non è interessante perché anche gli ati pensano che il futuro porterà rimedio al passato ai mali del passato per cui la tradizione giudaico-cristiana ha immesso nella cultura occidentale un ottimismo grandioso perché ha spostato lo sguardo mentre i greci guardavano l'età dell'oro come l'età più bella i cristiani i giudai seguaci della tradizione giudaico-cristiana guardano il futuro come il tempo in cui si pone rimedio ai mali del passato questo ottimismo è stato quello che ha consentito all'occidente senza false modestie di diventare la civiltà più avanzata e non a caso che scienze tecniche sono nate tutte quanti in occidente poi le abbiamo esportate in tutto il mondo ma perché sono nate sempre per questa funzione religiosa pensate che Bacone nel nuovo Morganum dice che attraverso la scienza e la tecnica noi ridurremo le pene del peccato originale quali erano queste pene la fatica del lavoro dice Genesi guadagnerai il pane col sudore della fronte e il dolore dice la donna apparturerai col dolore bene dice Bacone scienza e tecnica riducono le pene del peccato originale perché ridurranno la fatica del lavoro ridurranno il dolore quindi concorrono alla resenzione per cui quando vi raccontano che la scienza è contro la religione sono guerricioli da superficie la base è uguale il futuro ditelo ai giovani se il futuro per loro è una promessa chiedeteglielo a loro se è una promessa o se invece non è una minaccia come scrive giustamente Miguel Benassayag in un bellissimo libro intitolato l'epoca delle passioni triste dedicate ai giovani e se non è una minaccia è imprevedibile e se è imprevedibile non retroagisce come motivazione e allora siamo in quell'età che Nietzsche giustamente ha definito nichilista nichilismo è chiamato il nichilismo l'ospite inquietante e definisce il nichilismo con tre battute manca lo scopo il futuro non è più una promessa manca la risposta al perché perché mi devo impegnare perché devo studiare perché devo lavorare perché devo stare al mondo guardate che si suicidano circa 400 studenti all'anno a televisione non lo dicono però e poi c'è un paio di milioni di studenti che si feriscono si tagliano e poi ci sono quelle che si chiudono in camera con il computer e non escono neanche per i loro bisogni fisiologici per mangiare li portano quella malattia giapponese e poi ci sono tre milioni di anoressiche adesso incominciano anche i maschi c'è tanto disagio giovanile e io sono convinto che i ragazzi oggi si drogano e bevono e bevono tanto non necessariamente solamente vino per non tanto per il piacere che dà queste cose quanto piuttosto per anestetizzarsi dall'angoscia che provano quando guardano il loro futuro e voi padri non dite ai vostri figli ai miei tempi perché i miei tempi non sono i vostri ma i miei io sono abbastanza vecchio erano tempi fortunatissimi erano tempi dove il futuro era da aspettarci io mi sono lavorato nel 1965 ma nel 1964 ho insegnato per un anno e non ero ancora laureato perché una professoressa del liceo era andata in maternità in maternità un po' difficile ha dovuto stare a casa un anno e io ho insegnato per un anno filosofia in prima, seconda e terza liceo perché non c'erano filosofi oggi se uno si laurea in filosofia la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia quindi non si deve dire ragazzi ai miei tempi perché i nostri tempi erano molto più favorevoli dei loro chiuso la parentesi lunga parentesi per far vedere la differenza tra il tempo greco e il tempo giudaico cristiano bene i greci hanno come sono una cultura dalla visione loro hanno la bellezza di cinque modi di dire vedere due sono i più importanti il primo è orao che vuol dire contemplare guardare da cui la parola panorama guardo tutto l'altro è scopos scopeo scopeo ha a che fare con scopo la parola scopo viene da scopo che non è un guardare panoramico è un guardare mirato per raggiungere un obiettivo lo sguardo del cacciatore è mirato sulla preda e questo non è uno sguardo panoramico ci vuole un altro verbo orao è lo sguardo rivolto alla natura in termini contemplativi scopeo invece è lo sguardo mirato che è poi lo sguardo che funziona oggi nella scienza e tecnica hanno uno sguardo scopico puntato su un obiettivo un obiettivo guardato con i canocchiali con i microscopi non è uno sguardo panoramico scienza e tecnica ormai governano il mondo abbiamo perso il gusto del panorama quello sguardo contemplativo che destava meraviglia dice Aristotele e dalla meraviglia nasceva l'interrogazione filosofica perché chi ha fatto tutto questo com'è possibile che esista che senso ha il suo esistere ecco questo e qui cominciamo a muoverci in una dimensione estetica la anche la parola verità che è un filosofo forse il più grande filosofo del novecento Heidegger spezza in due la parola verità in greco si dice all'eseia l'ese vuol dire nascosto anche in italiano abbiamo la parola letargo latente latitante l'ese l'ese vuol dire nascosto all'eseia vuol dire non nascosto svelato manifesta cioè ancora una volta la verità è l'accadere manifesto del mondo non è un giudizio di vero di falso è uno spettacolo lo spettacolo concesso a tutti gli spettatori dice Platone e allora qui comincia a subentrare la categoria della bellezza che non appartiene alla tradizione giudaico cristiana ma appartiene alla tradizione greca la categoria della bellezza perché nel simposio si dice che la bellezza prende una sua dimensione ascensionale a partire dalla bellezza dei corpi si passa alla bellezza delle anime alla bellezza delle leggi pensate un po' voi se oggi uno dice che una legge è bella siamo proprio deviati perversi invece la legge è la condizione per cui gli uomini possono convivere se stessero le regole e pagassero le tasse e non inquinassero la terra bene allora la bellezza dei corpi la bellezza delle anime la bellezza delle leggi la bellezza delle conoscenze è in cima di tutti calagazzos come lo possiamo tradurre intraducibile teniamolo lì naturalmente la lettura cristiana di Platone lo chiama Dio in realtà calagazzos è questa sintesi di bellezza e bontà e proprio qui si dice che la bellezza è la misura della bontà il bello è la misura del bene e in cosa consiste la bellezza propriamente per loro la bellezza dice Platone nel filebo è rappresentata dall'armonia armonia non è una parola italiana è una parola greca in cosa consiste l'armonia in un giusto syncheraset in una giusta mescolanza degli elementi giusta mescolanza degli elementi allora un quadro è bello se c'è una giusta mescolanza degli elementi una natura è bella se c'è una giusta mescolanza degli elementi un'armonia e l'uomo cosa fa in questa armonia Platone dice con estrema chiarezza un uomo meschino non pensare che questa natura sia stata creata per te tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia pensate se noi oggi nei rapporti con la natura siamo aggiustati all'universo armonia della natura o non abbiamo al contrario ridotto la natura a materia prima non solo per l'uso della natura ma come dice opportunamente Heidegger fino alla sua usura e come facciamo a vivere in questo mondo con una natura che non è più dimora dell'uomo ma è pure semplice materia prima abbiamo perso proprio le coordinate dell'esistenza si tenga presente che la categoria della misura è una categoria fondamentale per i greci ho accennato prima il concetto di mortale l'uomo è mortale quindi questo è il grande limite e da qui nascono i comportamenti che devono avere un loro limite quando promete o dona ai mortali il fuoco la tecnica la capacità del calcolo racconta Eschilo rendendoli da indifesi e muti in padroni delle loro menti a un certo punto il coro chiede non è che tu immortale hai promesso qualcosa che non sei in grado di mantenere alludendo anche all'ipotesi che gli uomini non moriranno più e lui confessa si ho dato loro ceche speranze tu flas elpidas e loro il coro dice bene ha fatto Zeus a incatenarti a una roccia e a mandarti un'aquila che tirò del fegato che si riforma ogni giorno per garantire l'eternità del supplizio perché ha ingannato i mortali gente seria i greci sono gente seria tu flas elpidas ricordiamocelo questa espressione false cieche speranze ecco il senso della misura c'è anche nel concetto di felicità la cui accennava prima il nostro caro amico la felicità la felicità i greci la chiamano eudaimonia eo in greco vuol dire bene daimon vuol dire se tu realizzi il tuo daimon il daimon il daimon non è il demonio il daimon è ciò per cui sei nato la tua vocazione la tua natura la tua arte che cos'è che senti come tuo daimon vuoi fare il falegname vuoi fare lo scultore vuoi fare il filosofo vuoi fare il politico qual è il tuo daimon prima incomincia a conoscerlo e allora le due cose necessarie per essere felici Platone dice sono state dette giustamente dall'oracolo di Delphi il quale ha detto prima di tutto che noti sei autonico conosci te stesso perché se non ti conosci come fai a sapere qual è il tuo daimon guardi la televisione per dire quel modello lì mi piace voglio diventare quella cosa lì ma sei capace è il tuo daimon ecco che la conoscenza di sé è una cosa molto importante conosci te stesso e poi una volta che hai conosciuto te stesso realizzalo ma realizzalo catametron secondo misura perché magari sei un bravo scultore ma non sei bravo come figlia e se cerchi di oltrepassare la tua misura prepari la tua rovina vedete questo concetto di misura come importante e i greci a questo punto non avevano bisogno di fare dieci comandamenti cinque precetti ne basta uno non oltrepassare la misura chi oltrepassa la misura commette ubri stracotanza vai al di là del limite e chi non conosce il suo limite dice la sapienza greca tema il destino siamo capaci oppure abbiamo creato una cultura che non conosce il suo limite pensate che noi abbiamo un arsenale di bombe atomiche in grado di distruggere la terra ventimila volte questo non impedisce che nelle centrali automiche nei lavoratori nucleari si cerchi di migliorare la bomba atomica che cosa vuol dire migliorare in un contesto in cui già di quello che disponi è in grado di distruggere la terra ventimila volte e allora noi oggi siamo in grado di con la tecnica di cui disponiamo la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare e a questo punto noi ci muoviamo a mosca cieca i greci avevano incatenato col senso della misura prometteo noi l'abbiamo scatenato e adesso ci troviamo in questa condizione di scatenamento abbiamo incominciato ad avere una minima attenzione alla natura e fatto delle programmazioni e poi succede una guerra che mi raccomando voglio vedere che la nostra biosfera che petto gli fa tutte queste bombe che esplodono e guardate che la biosfera è una pellicola sottilissima una volta che l'avremo compromessa definitivamente la terra finisce cioè finisce finiamo noi poi la terra ricomincia perché la terra può vivere anche senza di noi e per quanto ci riguarda e per quanto ne sappiamo è solo qui per il momento che noi possiamo vivere riflettiamo su queste cose è stata una guerra per di nuovo riaprire tutte le miniere di carbone per rimandare le date per la riduzione dell'uso dei combustibili fossili ci siamo dimenticati tutti nel giro di tre mesi il problema della terra è sparito non è il problema più grave forse rispetto ce ne sono altri più gravi ma comunque fermiamoci qui per il momento poi arriva il cristianesimo il cristianesimo non è il giudaismo ma siccome i cristiani non sono attenti neanche alle preghiere che dicono continuano a credere cose che non rientrano niente minimamente nella tradizione cristiana allora Giovanni nel suo Vangelo dice et verbum caro factum est e la parola si è fatta carne vi avevo detto prima che il mondo giudaico vive dalla parola di Dio che recepisce col cuore di carne e respinge col cuore di pietra la parola il verbo il verbo si è fatto carne quindi la religione cristiana è una religione fortemente corporea perché l'essenza del cristianesimo è l'incarnazione delle tre religioni monoteiste solo il cristianesimo prevede che Dio si sia fatto uomo l'ebraismo non lo prevede tantomeno il mondo islamico sono tutte e tre le regioni figlie di Abramo ma solo il cristianesimo ha immaginato che Dio si faccia uomo e quindi e ha salvato l'uomo attraverso il suo corpo nascendo morendo risorgendo il cristianesimo è una religione profondamente corporea non ha la più pallida idea di anima il cristianesimo e tutti i cristiani continuano a pensare di avere un'anima e quando si muore l'anima va per i cieli è un pensiero consolatorio ma non è un pensiero cristiano primo perché nella tradizione giudaica non c'è la più pallida idea di anima c'è una parola la parola nefesh che quando la Bibbia è stata tradotta in greco dai settanta che si sono messi a tradurre in greco la Bibbia è stata tradotta con psuche che vuol dire anima la parola anima però l'ha inventata Platone non l'ha inventata la Bibbia non l'ha inventata la tradizione giudaica e perché l'ha inventata Platone perché Platone aveva un problema da risolvere e diceva se noi vogliamo costruire un sapere universale valido per tutti non possiamo fare riferimento alle nostre sensazioni corporee se qui dicessi che temperatura c'è ognuno di noi darebbe una temperatura diversa secondo delle sensazioni del suo corpo perché dice che il corpo da bambino diventa adulto si ammala è oggetto di passioni e non può essere un criterio di verità universale valido per tutti per cui bisogna costruire un sapere non fondato sulle sensazioni corporee ma fondato sulle idee sulle misure sui numeri sulle quantità le relazioni i rapporti e aveva fatto scrivere sulla sua accademia dice la tradizione non si entra qui se non si è geometri ecco organo di queste figure astratte numeri idee relazioni quantità misure rapporti generi e specie e specie organo lui la chiama psichè l'anima l'anima l'ha inventato Platone nella Bibbia non c'è la parola anima ma quando la parola nefesh è stata tradotta con psichè ecco che psichè si è tenata dietro tutta la tradizione greca che prevedeva che l'uomo è composto di anima e di corpo il corpo è fallibile il corpo non è criterio di verità il corpo è aggredito da passioni non perviene la verità è la prigione dell'anima tutte queste cose sono cose greche non sono cose giudaiche la parola nefesh non può essere tradotta con anima per la semplice ragione basta guardare i contesti in cui è usata tipo misero in catene i miei piedi e in lacci la mia nefesh la mia gola oppure il popolo ebreo si lamenta con Yahweh e dice che la nostra nefesh è nauseata dalla tua manna infatti nell'attraversata dell'Egitto Yahweh gli mandava la manna dal cielo la nostra nefesh è nauseata dalla tua manna che cos'era nefesh di nuovo la gola nefesh vuol dire vita tutto ciò che concorre alla vita il respiro il cibo la gola tutto ciò che rientra nella vita non c'è scritto come viene tradotto muoia Sansone con tutti i filistei ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei che non è la mia anima la mia vita non dice occhio non dice occhio per occhio dente per dente nefesh per nefesh che non è anima per anima ma vita per vita cosa vogliono dire le traduzioni sono pericolosissime e purtroppo però ha avuto effetto da tradizione con psichè i cristiani sono convinti di avere un'anima così come sono convinti che la Madonna è vergine adesso finalmente per la prima volta in Italia la Bibbia è stata tradotta dall'aramaico e non più dal greco ad opera di studiosi aramaici alcuni dei quali io conosco editata in tre grossi volumi dai naudi dove saltano fuori delle cose sorprendenti sul tipo per esempio che Gesù è nato da una halmaha che vuol dire una giovane ragazza mentre in aramaico vergine si dice Betullah allora non è nata da una vergine è nata da una giovane ragazza che è anche più logico ovvio semplice che problema c'è ecco però abbiamo tutte queste trascrizioni derivate dal fatto che fino adesso tutte le nostre Bibbie erano tradotte da greco è la prima volta in Italia che viene fuori una traduzione dall'aramaico e saltano fuori tutte queste belle cose andiamo oltre il cristianesimo non ha la minima nozione di anima perché è l'incarnazione perché il centro è l'incarnazione e quindi è il corpo Paolo di Tarso è convinto che i cristiani non moriranno ma saranno assunti in cielo con il loro corpo poi gli scrivono da Corinto che alcuni cristiani sono morti allora dice vengo a vedere parte da Roma con la nave arriva verso nelle prossimità della Tunisia e della Libia rischia un naufragio alla fine arriva a Corinto e dice sì ho visto anch'io da vicino la morte vorrà dire che allora anche i cristiani moriranno ma risorgeranno e poi va a dire queste cose nell'area opago agli attenesi e allora se leggetti gli atti degli appostoli nel capitolo 14 dice San Paolo dopo la morte di Cristo dopo la risurrezione di Cristo o morte dov'è il tuo pungiglione dopo la risurrezione di Cristo anche i cristiani risorgeranno apro le virgolette non aggiungo una parola Luca atti degli appostoli capitolo 14 alcuni risero altri gli dissero questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta questo per dire la distanza abissale che c'è tra cultura greca e cultura giudaico-cristiana e allora anche San Paolo non aveva nessuna nozione di anima gli stessi cristiani quando recitano il credo che è il loro atto di fede non dicono di credere nell'immortalità dell'anima ma dicono di credere nella risurrezione dei corpi allora stanno attenti quando pregano a quel che dicono non lo stanno attenti e continuano a credere che c'è l'anima l'anima è stata introdotta nel cristianesimo quattro secoli dopo la morte di Cristo a cura di Agostino Santo Agostino il quale era un neoplatonico preleva da Platone la figura dell'anima che Platone aveva ideato per risolvere un problema di conoscenza e la inserisce in uno scenario di salvezza per cui il corpo è corruttibile l'anima è incorruttibile nell'interiorità dell'anima si manifesta Cristo Dio la verità in interioritate hominis o altrove in interioritate anime e da l'ora in poi anche i cristiani hanno pensato continuamente di avere anima e corpo il corpo corruttibile l'anima incorruttibile chi vive nel mondo secondo le regole del corpo non conosce Dio amare mundum non è scognosce credeum è Agostino che ha introdotto il concetto di anima e sviluppato questo dualismo che non è della tradizione giudaica cristiana ma è di Platone naturalmente pensare di avere un'anima immortale può anche essere consolatorio e mentre è un pochino complicato pensare alla risurrezione dei corpi soprattutto adesso poi con trapianti d'organo poi non si sa più di chi sono nel giorno del giudizio cioè attenzione attenzione i cristiani devono essere fedeli se vogliono essere cristiani alla loro tradizione l'incarnazione è questo il verbo si è fatto carne e questa è l'unica ragione per cui mentre se voi dicevo prima andate in una senagoga e vedete delle frasi della Bibbia sulla cima in cornicione della cupola la stessa cosa la vedete nel mondo islamico dove vedete tutte le frasi del Corano ma non vedete mai un'immagine nelle chiese italiane vedete le immagini perché il cristianesimo è una religione dei corpi immagini e se noi abbiamo una storia dell'arte quindi un'estetica e quindi una sensibilità per la bellezza e per l'arte soprattutto noi italiani sarebbe il nostro petrolio questo invece non lo usiamo con sufficiente per ignoranza non basta insegnare un'ora alla settimana negli ultimi anni del liceo la storia dell'arte non basta istruirli bene sulla storia dell'arte perché è il nostro capitale comunque nelle chiese cristiane vedete benissimo che c'è una religione dei corpi corpi crocefissi giudizi universali poi la religione del cristiano è diventata anche attraverso l'uso delle immagini nel seicento dopo la separazione dei protestanti i cattolici sono diventati furbi e hanno cominciato a mettere in chiesa scenari barocchi con pitture allusive anche alla sessualità no? madonna con i seni semi esposti oppure corpi nudi san sebastiano ferito da tutte le parti ma nudo per attirare la gente in chiesa e la cosa ha avuto successo in qualche maniera poi abbiamo perso quasi tutto anche di questo cristianesimo cristianesimo è una cosa grandiosa dal punto di vista del corpo però però i cristiani non lo celebrano non lo celebrano e arriviamo dobbiamo ringraziare qui come prima ho detto il cristianesimo è quello che ha rovinato la terra adesso qui dico il cristianesimo è quello che ha salvato l'arte perché tutta l'arte è arte sacra e quando i genitori laici non mandano i loro figli a scuola di religione alle lezioni di religione fanno malissimo perché dopo siccome la nostra arte è sostanzialmente arte sacra l'arte rappresentativa è arte sacra cosa sanno i bambini dell'annunciazione di Beato Angelico cosa sanno il giudizio universale della Cappella Sistina cosa sanno niente sanno perché non hanno nessuna informazione religiosa da qualunque parte venga la cultura va seguita altrimenti si creano solo degli imbecilli capaci solo di vedere la Roma almeno nell'interno la Juventus gente da Curva Nord gente da Black Block gente da che quando ci sono le manifestazioni spacca le vetrine perché non ha linguaggio perché non ha cultura oh signori miei bisogna farla funzionare questa cultura ma non fatemi arrabbiare su questo punto perché sennò dovrei fare un'altra conferenza sui disastri della scuola che bene che mi trattenga bene chiudiamo che cos'è la bellezza la bellezza è una tensione è una tensione tra sensibile e l'invisibile e l'ineffabile quando dico invisibile è qualcosa che non si vede ma a cui ciò che vedo rimanda quando dico ineffabile fateore in greco vuol dire parlare è qualcosa che indicibile abbiamo incominciato questa conferenza a dire che non si può dire alcunché della bellezza è che è una tensione tra ciò che si vede e ciò che non si vede ma a cui ciò che si vede rimanda ciò che si vede lo si vede con i nostri sensi la parola estetica viene dal greco aistano che vuol dire sensazione bisogna avere una sensazione mettere in moto i sensi per percepire ma non fermarsi allo sguardo sensibile quando voi ammirate un quadro a partire dalla sensibilità con cui si va ai musei si vedono queste opere d'arte ce ne sono così tante che si fanno delle corse non ci si sofferma ma quando vi soffermate su un quadro provate a chiedervi perché vi soffermate perché ci sono dei quadri rispetto ai quali state lì del tempo e delle ore perché ci sono delle opere d'arte che sono delle grandi opere d'arte a differenza di tanti quadri che sono solo espressioni biografica che cosa li distingue quando è arte al di là di quando diventa tale perché il mercato la lancia diventa arte quando nel guardare un quadro vedo quello che vedo ma ho la sensazione che quello che vedo mi rimanda a qualcosa che non vedo allora qual è l'essenza della bellezza rispondo con una sola parola l'essenza della bellezza è il simbolo simbolo è una parola greca che vuol dire mettere assieme ballen vuol dire gettare simballen vuol dire mettere assieme diaballen vuol dire separare proballen vuol dire lanciare una soluzione da cui la parola problema diabolico è il massimamento di distanza da Dio diametro la maggior distanza tra due punti della circonferenza tutte le parole che cominciano per dia indicano distanza separazione opposizione tutte le parole che cominciano per sun indicano connessione è un simbolo metti insieme il visibile con l'invisibile la sensazione non si arresta a ciò che vedi ma ti rimanda ad un'ulteriorità di senso che non vedi e rispetto al quale stai mobilizzati in uno stato di inquietudine quello che si chiama la sindrome di Stendhal Stendhal è andato a vedere le opere d'arti a Firenze a Roma a Napoli e a Firenze mentre guardava qualche quadro degli uffizi ha avuto dei mancamenti tachicardia giramento di teste voci collassi svenimenti all'ospedale sindrome di Stendhal questa sindrome di Stendhal è tuttora studiata c'è una psichiatra fiorentina che si chiama Graziella Magherini che ha scritto un bellissimo libro dicendo che questi fenomeni succedono tuttora perché? perché vanno a spiegare perché? la spiegazione chiedo io è che la tensione tra ciò che vedi e ciò che non vedi ma percepisci che c'è un'ulteriorità di senso rispetto a quello che vedi determina inquietudine la spiegazione che danno le neuroscienze di questi fenomeni è che siccome le opere d'arte sono il prodotto dell'immersione dell'artista nella sua follia tu attraverso quel quadro partecipi alla follia dell'artista e stai male anche tu solo che l'artista è consueto ha una consuetudine con la follia tu invece no e quindi ci resti dentro e non riuscendo ad immaginartela a livello ideativo la vivi a livello somatico spiegazioni neuroscientifiche dategli il significato che volete però questi fenomeni succedono l'attrazione dell'opera d'arte è questo incantamento ma l'incantamento non è tanto la bellezza in sé quanto il turbamento che ti determina ciò che vedi rispetto a ciò a cui rinvia quello che vedi e in questo sta la dimensione della bellezza inquietudine inquietudine e al tempo stesso investimento della dimensione sensoriale che non si blocca in ciò che vedi ma dopo prova l'inquietudine di non accedere a ciò che non vedi la religione cristiana una volta aveva capito queste cose una volta mica neanche fino a tanto tempo fa fin quando io ero ragazzino la religione cristiana faceva delle cerimonie veramente molto sontuose con i canti con la liturgia con l'incenso con le luci dei veri e propri spettacoli erano con i canti gregoriani con i canti polifonici perché perché siccome la fede non è una cosa razionale tu devi muovere la sensazione devi muovere la bellezza la estanomai la sensazione l'estetica la bellezza sono la stessa cosa devi catturare i sensi se vuoi accedere perché siccome la fede non è una faccenda razionale non accedi con la tua razionalità puoi accedere solo attraverso l'investimento sensoriale e allora la chiesa si preoccupava di fare queste cose oggi non fa più niente c'era padre Turoldo che aveva scritto che cosa sono oggi le nostre chiese sono dei garage dove è parcheggiato Dio con i fedeli allineati davanti a lui senza più immagini senza più canti senza più polifonia senza più incensi senza più cerimonie e dopo di che ci si lamenta che la gente non va più in chiesa anche se ci fosse andata solo per ragioni estetiche le chiese sarebbero state piene come erano piene quando io ero ragazzino adesso sono vuote realizzando la profezia di Nietzsche che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio tombe sepolcri di Dio c'è un prete che viene da solo a recitare la messa non è neanche più il crichetto vicino fa tutto da solo recita delle negne preghiamo 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 che non hanno niente di incantevole ma di patetico solamente poi finisce la cerimonia la cerimonia la recitazione di questo che si chiama messa e che una volta aveva un grande splendore e che adesso non sollecita più nessuno per cui le chiese sono diventate dei deserti e qui per troppo peccato perché la religione tutto sommato è stata la prima grande operazione terapeutica di massa che ha portato l'umanità dallo stato selvaggio allo stato quasi civile e quindi perdere queste connotazioni è una perdita secca oltre che una perdita secca nei termini della bellezza quindi teniamo presente la bellezza è inquietudine è mettere insieme ciò che vedo con ciò a cui ciò che vedo rimanda è questa connessione inquietante che Freud aveva che Kant aveva descritto nel sublime che è anche terrorizzante come può essere non so una cascata del Niagara è bella ma è anche inquietante stare ai bordi a guardarla bene per tutto questo è necessario però per accedere sempre alla bellezza è necessario il sacrificio del Dio l'abbiamo detto all'inizio quindi non mi sto a ripetere Dio è la nostra parte razionale alla bellezza non accedi con la tua razionalità alla bellezza accedi attraverso la tua sensorialità sensualità non con la tua razionalità quindi Dio deve essere messo fuori gioco questi greci lo sapevano benissimo e lo sapevano benissimo per cui per esempio parlavano di epopteia cioè dicevano i poeti hanno questo di caratteristico che non vedono ciò che hanno davanti sono ciechi perché hanno una visione superiore vedono al di là di quello che normalmente si vede e quindi in questo senso non so si dice dicuntomerum cecum fuisse dicono che Omerum fosse cieco chi non è attratto dal presente ha una capacità di visione che va al di là del presente una epopteia una visione superiore la dea tolse a demodoco la vista e gli diede il dono del canto perché lo amava capite questo ti amo così tanto che ti tolgo la vista perché la vista ti distrae invece se ti do il dono del canto entri nella forma della bellezza dell'estetica ancora la bellezza i greci la capivano e la collocavano nell'entusiasmo entusiasmo è una parola greca entusiasmo vuol dire enzeos dentro di te c'è un dio per i greci gli dei non appartengono all'ordine razionale non stanno alla regola della ragione non stanno al principio di non contraddizione zeus è ad un tempo il capo degli dei ma è anche tuono è anche fulmine è anche toro è anche pioggia e tutte le cose quindi sono al di là gli dei appartengono allo scenario della follia che gli uomini si sono lasciati alle spalle inventando la ragione enzeos dentro di te c'è un dio enzeos entusiasmo Cassandra quando prediceva il futuro dice dice Cicerone non Cassandra loquitur se Deus inclusus incorpore a parlare non era Cassandro ma il dio racchiuso nel suo corpo Pindaro che era il più grande poeta greco e che prendeva 30.000 drachme al mese quando un architetto di navi ne prendeva solo 300 perché? perché i poeti creano il linguaggio perché i poeti dicono il futuro lui non si definiva poeta si definiva profeta profeta è una parola greca profator parlo al posto del dio che mi detta dentro questo dio che ci detta dentro è esattamente la follia la follia degli artisti che Aidea definisce i più arrischianti gli artisti i poeti sono i più arrischianti perché per creare non puoi regolarti sulla ragione perché la ragione è un sistema di regole e con quello non crea un bel niente per creare devi affidarti alla tua follia però se tu ti immergi nella follia non è mica detto che ne esci fuori ci puoi restare dentro e quindi è rischioso ma se vuoi creare non puoi evitare questo rischio altro che la bellezza come cosa gaudente simpatica carina no no è tutta una roba molto pesante la bellezza e Carl Asper che è stato il più grande psicopatologo del novecento dice quando voi ammirate un'opera d'arte vi comportate come quando ammirate una perla dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia e senza la schizofrenia del suo autore quest'opera non sarebbe mai nata bene qui abbiamo chiuso il discorso la bellezza allora non trattenetela come una cosa tranquilla è una cosa inquietante è una cosa simbolica che mette insieme il visibile e l'invisibile ed è una cosa possibile solo attraverso un accesso alla follia che ci abita fatto con una certa prudenza perché ci puoi restare dentro e c'è chi si sacrifica quanti poeti maledetti quanti artisti sono praticamente impazziti e nella loro pazzia hanno scritto cose grandiose non so pensiamo a Hölderlin pensiamo a Proust pensiamo a tanti rappresentanti di questi di queste persone che hanno avuto il coraggio di entrare nella follia per regalarci la bellezza e l'arte che dunque non è una cosa tranquilla grazie grazie grazie